Signorati, eccoci al main event della serata! 53 minuti di Muay Thai per il titolo del Mediterraneo WBC, categoria 63,5 kg, andiamo a presentare Anagolo Blu, campione, due volte campione di Spagna, della Safarod Chiarda e Toncini nella Spagna, Giuseppe Bello! E' Anagolo Rosso, l'attuale campione italiano, WBC, l'attuale campione italiano, l'ultima fa del Torrent Boxing Club, percolano Luca Temasci Franco! Passongei! Show! V находiamo una per Cho Cali Contreras Vov, Grazie! Grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.